benvenuti e ben ritrovati sul canale preparazione 2.0 oggi siamo insieme per un nuovo appuntamento della domenica in compagnia dei nostri super contest in particolare siamo insieme per dare risposta al super contest numero 9 come vedete si tratta di risolvere un'equazione algebrica di terzo grado nella variabile y per cui considerando x come parametro dovremo trovare le soluzioni del tipo y di x che siano in grado di verificare l'equazione algebrica fornita molti di coloro che hanno partecipato hanno fatto riferimento ai metodi algebrici tipicamente utilizzati per risolvere equazioni di terzo grado a me però piacerebbe mostrarvi un metodo diverso un metodo ideato da robert harley che consiste nell'associare all'equazione algebrica di partenza un'equazione differenziale se siete curiosi entriamo nel dettaglio come anticipato il metodo che adesso andremo a descrivere è dovuto a robert harley che lo ideò al fine di poter risolvere equazioni algebriche di grado elevato generalmente di grado maggiore uguale a 5 questo perché si tratta di equazioni che non sono risolvibili utilizzando radicali algebrici nel nostro caso utilizzeremo questa metodologia per risolvere un'equazione di terzo grado nella variabile y ovviamente otterremo come soluzioni funzioni del tipo y di x alle quali giungeremo associando all'equazione algebrica di partenza una forma differenziale in particolare supponiamo di considerare la funzione f di x y data appunto da y al cubo meno 3y più 2x per cui la derivata prima della variabile y può essere ottenuta facendo ricorso al teorema delle funzioni implicite e dunque come meno il rapporto fra la derivata prima della nostra f di x y rispetto alla variabile x fratto la derivata prima sempre della nostra funzione in due variabili rispetto alla variabile y e dunque otterremo meno 2 fratto 3y quadro meno 3 per cui raccogliendo a fattore comune un 3 otterremo meno 2 terzi che moltiplica 1 fratto y quadro meno 1 a questo punto ritorniamo all'equazione di partenza per cercare di ottenere il denominatore y quadro meno 1 anche in termini della variabile x dunque avremo y al cubo meno 3y più 2x che il nostro problema algebrico a cui fornire soluzione possiamo scriverlo come y al cubo meno 3y uguale meno 2x da cui raccogliendo y al fattore comune otterremo y al cubo meno 3 uguale meno 2x e dunque y al cubo meno 3 uguale meno 2x su y a questo punto però possiamo scomporre il meno meno 3 come la somma tra meno 3 come la somma tra meno 1 e meno 2 e dunque lasciando il meno 1 a primo membro e portando il meno 2 a secondo membro che quindi cambierà segno otterremo y quadro meno 1 uguale 2 meno 2x su y e dunque effettuando un minimo comune multiplo otterremo y quadro meno 1 uguale 2 volte y meno x su y a questo punto sostituiamo quanto abbiamo appena ottenuto all'interno dell'espressione ricavata precedentemente per la derivata prima di y che dunque diventerà meno 2 terzi per 1 fratto 2 volte y meno x fratto y da cui otterremo in definitiva meno 1 terzo che moltiplica y fratto y meno x a questo punto proviamo a fare qualche piccolo rimaneggiamento algebrico su questo fattore y fratto y meno x inizialmente moltiplichiamo sia il numeratore che il denominatore per il fattore 1 meno x quadro per cui otterremo 1 meno x quadro y fratto 1 meno x quadro y meno x da cui y meno y x quadro fratto 1 meno x quadro che moltiplica y meno x a questo punto ci ricordiamo della forma algebrica a cui vogliamo dare soluzione e dunque y al cubo meno 3y più 2x uguale a 0 di conseguenza poiché la nostra forma algebrica deve essere uguale a 0 possiamo ipotizzare di sommarla al numeratore senza che questo modifichi la nostra frazione dunque otterremo y meno y x quadro più y al cubo meno 3y più 2x fratto 1 meno x quadro che moltiplica y meno x da cui otterremo y al cubo meno y x quadro meno 2y più 2x sempre fratto 1 meno x quadro che moltiplica y meno x ed effettuando dei raccoglimenti a fattore comune arriveremo ad ottenere y quadro più y x meno 2 fratto 1 meno x al quadrato di conseguenza la nostra derivata prima assumerà la forma y primo uguale meno 1 terzo y quadro più y x meno 2 fratto 1 meno x al quadrato e dunque 3 volte 1 meno x al quadrato y primo uguale uguale meno y al quadrato più y x meno 2 a questo punto differenziamo ambo i membri rispetto alla variabile x ricordandoci che y è funzione di x otterremo dunque meno 6 x y primo più 3 che moltiplica 1 meno x quadro y secondo uguale meno 2y y primo meno y meno x y primo riarrangiando quanto ottenuto relazione agli ordini delle derivate otterremo 3 volte 1 meno x al quadrato y secondo uguale 5x meno 2y y y primo meno y ma avevamo trovato ma avevamo trovato precedentemente che y primo è pari a meno un terzo che moltiplica y al quadrato più y x meno 2 fratto 1 meno x quadrato di conseguenza sostituendo otterremo 3 volte 1 meno x quadrato y secondo uguale meno 5x meno 2y che moltiplica y al quadrato più y x meno 2 fratto 3 volte 1 meno x al quadrato meno y per cui effettuando il minimo comune multiplo otterremo 9 che moltiplica 1 meno x al quadrato al quadrato y secondo uguale meno 5x meno 2y che moltiplica y al quadrato più y x meno 2 meno 3y che moltiplica 1 meno x al quadrato a questo punto effettuando i prodotti arriveremo ad ottenere 9 che moltiplica 1 meno x al quadrato al quadrato y secondo uguale 2y secondo uguale 2y alla terza meno 3xy alla seconda meno y che moltiplica 2x al quadrato più 7 più 10x ma ricordandoci sempre la nostra forma algebrica di partenza e dunque y al cubo meno 3y più 2x uguale a 0 otterremo che y al cubo è pari a 3y meno 2x e quindi andando a sostituire all'interno di quanto ottenuto dopo alcuni passaggi algebrici otterremo 9 che moltiplica 1 meno x al quadrato al quadrato per la derivata seconda più y che moltiplica 2x al quadrato più 1 più 3xy al quadrato meno 6x uguale a 0 ma prima avevamo trovato che la derivata prima è pari a meno y quadro più xy meno 2 fratto 3 volte 1 meno x al quadrato da cui 3 volte 1 meno x al quadrato y primo più y al quadrato più xy meno 2 uguale a 0 a questo punto sappiamo che entrambe queste forme differenziali devono essere uguali a 0 per cui dovrà essere uguale a 0 anche la loro combinazione lineare e dunque 9 che moltiplica 1 meno x al quadrato al quadrato per la derivata seconda più y che moltiplica 2x al quadrato più 1 più 3xy al quadrato meno 6x più lambda che moltiplica 3 meno x al quadrato meno x al quadrato più 1 meno x al quadrato più 1 meno x al quadrato al quadrato y secondo più 3 lambda che moltiplica 1 meno x al quadrato y primo più y al quadrato che moltiplica lambda più 3x più y che moltiplica 2x al quadrato più 1 più lambda x meno 6x meno 2 lambda uguale a 0 lambda è un fattore arbitrario di conseguenza possiamo sceglierlo in modo che il coefficiente di y quadro si annulli dunque sceglieremo lambda in modo tale che lambda più 3x sia pari a 0 e di conseguenza che lambda sia pari a meno 3x sostituendo al posto di lambda il valore meno 3x arriveremo alla forma differenziale 9 che moltiplica 1 meno x al quadrato y secondo meno 9xy primo più y uguale a 0 che è chiamata forma differenziale risolvente di Harley e come vedete è un'equazione differenziale del secondo ordine a coefficienti non costanti a questo punto non dovremo fare altro che risolvere questa forma differenziale al fine di ottenere le soluzioni del tipo y di x ricercate innanzitutto supponiamo che la funzione che moltiplica il termine nella derivata seconda sia diverso da 0 e dunque 1 meno x quadro diverso da 0 con x dunque diverso da più o meno 1 andiamo quindi a dividere tutto per la funzione coefficiente del termine nella derivata seconda ottenendo y secondo meno x su 1 meno x quadro y primo più 1 fratto 9 1 meno x quadro che moltiplica y il tutto uguale a 0 siamo arrivati dunque in una forma differenziale un po' più semplice da gestire dove p è rappresentato dal coefficiente della derivata prima e dunque meno x fratto 1 meno x al quadrato mentre q è rappresentato dal coefficiente del termine non derivato e dunque un nono che moltiplica 1 meno x al quadrato per cui facendo riferimento al metodo risolutivo basato sul cambiamento della variabile indipendente dovremo verificare che q primo più 2 volte p di x q di x fratto la radice del cubo di x sia costante al fine di poter trasformare questa forma differenziale in un'equazione differenziale del secondo ordine a coefficienti costanti dopo aver notato che la derivata prima di q è fornita da 2x su 9 che moltiplica 1 meno x al quadrato al quadrato andando a sostituire otterremo 2x su 9 1 meno x al quadrato al quadrato meno 2x su 9 1 meno x al quadrato al quadrato tutto fratto la radice di 729 1 meno x al quadrato al cubo ma il nostro numeratore è 0 dunque abbiamo verificato che si tratta di un rapporto costante a questo punto dunque definiamo la nostra variabile z come una funzione di x data da una costante che moltiplica l'integrale della radice di q di x in dx da cui c che moltiplica 1 su 3 radice di 1 meno x quadro di x e dunque un terzo c arcoseno di x più k. A questo punto a noi non interessano le infinite soluzioni di questo integrale, ci interessa una soluzione particolare, dunque possiamo ipotizzare di scegliere k uguale a 0 e c in modo che un terzo c sia pari ad 1 e dunque c pari a 3. Otterremo quindi che la nostra nuova variabile sarà arcoseno di x, da cui la derivata prima ovviamente è data da 1 sulla radice di 1 meno x quadro e ancora la derivata seconda da x fratto la radice di 1 meno x al quadrato al cubo. A questo punto il nostro problema differenziale espresso nella nuova variabile diventerà del tipo v secondo di z più p cappello di z per la derivata prima di z più q cappello di z per v di z uguale a 0, dove p cappello di z è fornito da z secondo più p per z primo fratto z primo al quadrato e q cappello di z da q fratto z primo al quadrato. Vi ricordo che questa tecnica risolutiva delle equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti non costanti è stata trattata durante le lezioni dedicate all'analisi matematica 2. Dunque, se avete necessità di approfondimenti o di chiarimenti, potete andare a consultare le lezioni già svolte. A questo punto, ricordandoci che p e q sono relative al nostro problema differenziale del secondo ordine di partenza e dunque meno x su uno meno x al quadrato e uno su nove uno meno x al quadrato, otterremo, sostituendo opportunamente anche z primo e z secondo, che il nostro p cappello di z è pari a 0, mentre il q cappello di z è pari a un nono. Il nostro problema differenziale nella variabile v diventerà dunque v secondo più un nono v di z uguale a 0, da cui, associando il polinomio caratteristico per un'equazione differenziale a coefficienti costanti, otterremo lambda quadrato più un nono uguale a 0 e dunque lambda uguale più o meno un terzo i, da cui l'integrale generale rispetto alla variabile v sarà dato da alfa 1 coseno di un terzo z più alfa 2 seno di un terzo z. Ma ricordandoci che la variabile z è stata definita come l'arco seno di x, otterremo che le soluzioni y di x del nostro problema sono del tipo alfa 1 coseno di un terzo arco seno di x più alfa 2 seno di un terzo arco seno di x. Ma, ritornando al nostro problema algebrico di partenza, e dunque y al cubo meno 3y più 2x uguale a 0, notiamo che nel caso x sia uguale a 0, otterremo y al cubo meno 3y uguale a 0, e dunque tre possibili soluzioni date da y uguale a 0, y uguale radice di 3, y uguale meno radice di 3. Inoltre ci ricordiamo che la derivata prima l'avevamo espressa anche come meno 2 terzi per 1 fratto y al quadrato meno 1, e di conseguenza in corrispondenza di y uguale a 0 otterremo y' uguale a 2 terzi, in corrispondenza di y uguale radice di 3 otterremo y' uguale meno un terzo, stesso discorso varrà in corrispondenza di y uguale meno radice di 3, nuovamente y' uguale meno un terzo. A questo punto, dunque, le nostre soluzioni potranno essere univocamente determinate, imponendo le condizioni iniziali nei tre casi, quindi y di 0 uguale a 0, y' di 0 uguale a 2 terzi, y' di 0 uguale radice di 3, y' di 0 uguale meno un terzo, y' di 0 uguale meno radice di 3, y' di 0 uguale meno un terzo, da cui otterremo nel primo caso alfa 1 uguale a 0, alfa 2 uguale 2, nel secondo caso alfa 1 uguale radice di 3, alfa 2 uguale meno 1, nel terzo caso alfa 1 uguale meno radice di 3, alfa 2 uguale meno 1, da cui otterremo che rispetto al primo caso riferito alle nostre condizioni iniziali, otterremo soluzione del tipo y' di x uguale due volte il seno di un terzo arcoseno di x. In questo secondo caso otterremo y' di x uguale radice 3 coseno di un terzo arcoseno di x meno il seno di un terzo arcoseno di x e nell'ultimo caso y di x uguale meno radice 3 coseno di un terzo arcoseno di x meno il seno di un terzo arcoseno di x che fornisce un gruppo di tre funzioni in grado di risolvere la nostra equazione algebrica di partenza. Come vedete questa volta ci siamo dovuti armare davvero di tanta pazienza perché i calcoli da portare avanti per poter risolvere un'equazione apparentemente innocua sono stati davvero molti. Mi auguro comunque che anche questo approfondimento sia stato di vostro gradimento. Io vi aspetto nuovamente sul canale preparazione 2.0 per nuove sfide ma anche per nuove dirette e per nuovi approfondimenti. Un saluto a tutti, alla prossima, ciao a tutti!